devo superarli devo superarli l'avevo anche superato posso creare un'altra occasione posso andare avanti sulla fascia senza portarmi il pallone fuori ripassamela 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 me la passa per il passaggio non arriva quindi occasione sfrecata attenzione adesso agli avversari che si portano in attacco si portano in aria dopo tantissimo tempo tirano calcio ad angolo per loro attenzione perché hanno un'altra occasione per attaccare non sono soli questa volta attenzione si prova da distanza attenzione perché con una serie di passaggi ci riescono però poi perdono subito palla che cazzo fai tu sono costretto a crossare 1-2 inutile di testa troppo facile per il portiere attenzione velocissimo ci arrivo attenzione probabilmente ci sarà l'ultima azione probabilmente invece finirà così però diciamo che c'è la città troppo facile per la città troppo facile per la città troppo che ci sono stati più fredduto a passaggi città troppo facile per la città troppo facile per la città tra troppo